Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti in un nuovo video su The Sims 4, primo video del 2018, io spero abbiate passato un ottimo capodanno, vi auguro un anno ricco di speranze come sarà il mio, perché non vedo l'ora di cominciare l'anno, è stato davvero un periodo assurdo l'ultimo e sono un bello bello carico. Sta di fatto che il mio fine anno e inizio anno, come potete sentire dalla voce, è stato attraversato da una bruttissima influenza, quindi nei prossimi video che vedrete anche nei prossimi giorni avrete a che fare con un Marucco praticamente posseduto da una creatura strana, perché come sentite la mia voce è davvero molto molto labile, mettiamola così. Sta di fatto che mi consola il fatto che non sono solo, infatti mezza Italia sta a letto con l'influenza, quindi non ne farei troppo una questione personale, ma direi che possiamo ricominciare il nostro anno con un nuovo episodio di The Sims 4 e siamo tornati a casa di Chiara e Luca, un po' come all'inizio. Intanto però sto notando che questa è da pulire, quindi svuotiamo la ciotola, per favore, grazie la mia Chiara, potresti sì, benissimo, e come vedete c'era anche il gatto che stava pulendo la cacca da solo, insomma le solite cose, ecco qua che Chiara torna, è anche vestita da giardinaggio perché ho appena messo a posto un po' il giardino e vedo già però che ha di nuovo bisogno di cure, quindi in realtà è stato vano tutto il lavoro. Per il resto ragazzi tutto va bene, mi aspetto tantissime cose da quest'anno, in realtà no, è sbagliato dirlo, non mi aspetto tante cose, io farò accadere delle cose, è giusto che sia così, è inutile aspettarsi qualcosa, in realtà c'è il brutto modo di dire che si aspetta qualcosa di buono, in realtà le cose vanno fatte, quindi spero di portare tante unità sul canale, sono bello carico se anche con l'influenza ora, ma sono molto molto carico per questo anno. Quindi possiamo cominciare l'anno in questo modo, ora vediamo un attimo di fare un bel po' di cose con questa famigliola, sono grandi, diventeranno anziani molto molto presto ragazzi, il ricambio generazionale ormai è un fattore assolutamente importante, quindi ben presto li farò anche passare l'età, diventeranno anziani i nostri due, ma in questo episodio ragazzi voglio fare qualcosa di estremamente importante. Infatti fra 5 ore andiamo a lavoro e come vedete ho diagnosticato la malattia di 4 pazienti su 5, quindi oggi massimizziamo la carriera di medico finalmente e vorrei anche portare a livello 10 la manualità di Chiara, perché siamo davvero molto molto vicini, ora se non ricordo male siamo a livello 8, vediamo un po', sì, in realtà sono quasi a livello 9, perché vorrei anche sbloccare la grotta segreta e fare un po' di foto là. Quindi ci sarà un episodio bello bello tosto, voglio anche far crescere i nostri due gattini, quindi andrò anche a comprare un po' di biscotti per farli crescere, insomma dobbiamo fare tante tante belle robe. Lui invece è andato a letto, se anche non ne aveva bisogno, va bene, e allora puoi mangiare qualcosa, sì avevano anche del cibo qua, ti voglio bello bello carico Luca e senza influenza, possibilmente almeno tu, perché voglio che andiamo a lavoro con tutti i bisogni al massimo per fare una giornata di lavoro tranquilla, speriamo. Quindi in realtà ora aspettiamo che mangi, dovrebbe anche mancare relativamente poco ragazzi, fra 4 ore, quindi GG molto bene. Lei invece che sta facendo di bello è andato a dormire sul divano perché aveva sonno e si scorda che ha una camera da letto, sì vi ho fornito una camera da letto, ammira anche la scultura di ghiaccio e tutte le decorazioni come vi ho detto ragazzi andranno via dopo la Befana come un po' nella vita reale. Quindi in realtà aspettiamo ancora, ci godiamo ancora qualche episodio con le decorazioni natalizie e poi togliamo tutto e recuperiamo anche un po' di simolio in realtà da questo. Quindi direi che va bene, sarà il regalo della Befana, il nostro riprenderci i soldi spesi per le decorazioni. Ora anche lui ha sonno e deve andare a lavoro fra un'ora, quindi lo vedremo andare a lavoro stanco. Il che non è proprio il massimo, per favore fai un pisolino, grazie, molto molto veloce perché mancano 20 minuti però l'importante è provarci ma non ce la facciamo perché c'è nostra moglie che ci dice di non dormire. A quanto pare ci vieta di dormire nostra moglie e non possiamo fare altro se non partecipare al lavoro un po' assonnati ma cercheremo di fare del nostro meglio. E siamo arrivati a lavoro, intanto dobbiamo esercitarci nell'analisi biochimica, lo faremo però la mia priorità è sicuramente curare i pazienti. Prendiamo lui così a caso e facciamo esaminare il paziente, esaminare gli occhi e ovviamente la nostra collega viene qua infermiera a rubarci il nostro lavoro. Lui che sta facendo? No? Chiacchiera? Allora grazie, potresti esaminare gli occhi del paziente? Grazie mille. Ora ragazzi, come vi dicevo, sentirete questa voce abbastanza influenzata per un bel po' di video. Questo perché l'influenza non mi ha fatto formattare, quindi fare il backup del computer e devo ancora farlo. Quindi mi sto pre-registrando i video per avere almeno 2 o 3 giorni di tempo per fare il backup, ristallare i programmi, scaricare di nuovo il gioco eccetera eccetera. Ci vorrà un bel po' di tempo. Intanto fai nascere il bambino al tavolo chirurgico, arriverà una sim incinta molto presto, quindi lo faremo. Ma al momento ci preoccupiamo di prendere e di prelevare un campione con un tampone, quindi lo facciamo. Va bene? No! Ops! Perfetto, cominciamo alla grande. Ecco, preleva il campione, grazie. Ce l'abbiamo fatta, molto bene. Abbiamo già delle robe? No, non possiamo ancora determinare la malattia, quindi io farei un po' tutti gli esami del caso. Consegna della cicogna? Va bene, dobbiamo per forza far partorire la sim. Eccola qua. Allora, fai nascere il bambino al tavolo chirurgico. Molto a disagio lei, eh? Eh, lo so, chissà perché. Allora la portiamo qua. Facciamo nascere il bambino. Possiamo anche stare fino a tardi, ragazzi, non ho un problema. Ecco qua che nasce il bambino. Come sempre c'è l'animazione. È strano vederlo dal nostro punto di vista, perché di solito siamo sempre clienti, mettiamola così. Mentre ora facciamo nascere noi i bambini. La cosa mi piace molto. Comunque torniamo al nostro paziente, che era lei se non ricordo male. E infatti facciamo un misurare la temperatura, poi facciamo anche un analizza il campione. Sì, lo facciamo, lo facciamo, che è abbastanza importante. E dobbiamo diagnosticare la malattia di un paziente. Speriamo di farlo. Siamo già al bronzo. Diagnosi debole. Troppe, troppe scelte. Assolutamente no. Facciamo l'analisi. Vediamo un po' che succede. L'analisi è stata completata. Convincente. Ne abbiamo quattro, dai. Altre scelte. Esamina il paziente. Facciamo. Eseguo una scansione del corpo. Mari ci toglie qualche dubbio. Il paziente è andato via. Chi se ne importa. Perfetto. Lui intanto che sta facendo... Torna all'otto attivo. Che vuol dire? Non ho idea. Facciamo diagnosi convincenti. Abbiamo tolto qualcosa. Bene, siamo a quota 3. Deferimento medico. Facciamo tapirulan. Proviamo a toglierci tutte le scuse. Perché dobbiamo andare dritti al sodo. E cercare di riparare agli errori del passato. E massimizzare questa carriera, ragazzi. Che mi piace. Probabilmente è la mia preferita delle 3 dell'espansione. Se anche in realtà sono tutte e 3 molto molto belle. Va bene. Ah, perfetto. Fatto andare via la bambina. Vergognati. Vediamo un po'. Esamina il paziente. Saluti dello stato di salute generale. Diagnosi convincente. Ne abbiamo due, ragazzi. Credo che facendo un esame a raggi X dovremmo anche toglierci tutti i dubbi. Quindi lo facciamo. Lo facciamo con Luca che è molto molto stanco. Come vedete. Però devi resistere, caro Luca. Devi resistere perché dobbiamo massimizzare la carriera. Ecco, la bambina ovviamente va sempre sfrattata perché è così. È così. Salute. Perfetto. A star notita una paziente. Diagnosi garantita. La minaccia tripla. Abbiamo appena massimizzato, ragazzi, la nostra carriera. Perché il rendimento è eccellente. Quindi riceveremo la promozione per forza di cose. Siamo anche a livello argento. Facciamo un bel analisi. Anzi, aspettate. Prima devo curare la malattia. Altrimenti è tutto vano. Altre scelte. Cura il paziente. Ecco qua. Indirizza il trattamento chirurgico. Grazie. Eccolo qua che lo curiamo. Altrimenti davvero, ragazzi, non avremmo fatto l'obiettivo. Per fortuna me lo sono ricordato e me l'ha ricordato l'obiettivo là in alto. Quindi ora la curiamo. Come va? A posto? Ora, io non mi affiderei a un medico che è molto molto stanco. Perché avrei un po' di paura. Per quanto la professionalità ovviamente è importante. Però, nel suo caso, sta crollando dal sonno. Non è proprio il massimo. Ma tranquilla, tranquilla. Eh sì, ridi, ridi. Perfetto, perfetto. Ti va bene che siamo in un gioco. Allora, ecco qua. Perfetto. Il paziente è andato via. L'importante è quello. Ora, dovremmo anche raggiungere il livello oro per avere la promozione. Ma lo facciamo. Annotiamo sicuramente i risultati degli analisi. Così almeno ci portiamo avanti. Ecco qua. E dobbiamo anche esercitarci sull'analisi biochimica. E lo facciamo dove? Ragazzi, questo mi sfugge. A giornano. Dovremmo poterlo fare qua. Vediamo un attimo. Probabilmente conta questo come analisi. Credo di sì, perché il simbolino è quello. Benissimo. Sta anche per terminare il giorno. Consegniamo il cibo ad un paziente. Perché voglio assolutamente arrivare a loro, ragazzi. E se riusciamo a non stare fino a tardi, tutto di guadagnato. Ecco qua che la bambina sfrattata aspetta il nostro cibo. Perfetto. C'è un'interazione facile da fare? Tipo sistemare il lettino medico. Forza, forza. Perfetto. Siamo arrivati all'oro. Il giorno lavorativo è appena finito, ragazzi. Ci siamo comportati benissimo. Abbiamo anche fatto nascere un bambino in tutto ciò. Abbiamo anche curato con un'operazione chirurgica il nostro paziente. Quindi dovrebbe essere andato tutto per il meglio. Ora però devi stare qua. Perfetto. Non vorrei che scappasse da qualche parte. Perché dobbiamo aspettare appunto che il giorno termini. Magari possiamo fare un pisolino. Non fa nulla. Perché siamo arrivati alla fine del turno. Ed è stato promosso a capo del personale. Abbiamo massimizzato la carriera. Guadagneremo 35 simonioni in più all'ora per un totale di 280 all'ora. Abbiamo anche ricevuto 1720 simonioni. Tipo distanza per la carriera di medico. Il suo prossimo turno è giovedì alle 9. Denaro guadagnato 3185 più un giorno di vacanza. E siamo a quota quasi 15.000 simonioni. Quindi è andato tutto bene. E ragazzi torniamo a casa. Ricchissimi i pazienti sono una virtù. Fai che un sim raggiunga il massimo livello nella carriera di medico. Promosso a capo del personale. Direi che è arrivato il momento di mandare questo povero medico. Seppur ormai capo del personale. A dormire. E direi che ce ne approfittiamo per andare con Chiara nella nostra clinica veterinaria. E comprare i biscottini. Che ci serviranno per far crescere i gatti. È una cosa molto molto importante. Quindi andiamo nella clinica però della concorrenza. Così almeno vediamo un po'. Ci guardiamo attorno. E scopriamo un po' che fanno. Andiamo. Compriamo i biscotti. Facciamo crescere i gatti. E poi ci concentriamo sul massimizzare l'abilità di manualità con la nostra Chiara. Siamo arrivati. Salve salve salve. Ora io non devo prenotare nessuna visita. Ma devo venire qua nel frigo. E comprare appunto i nostri prodotti. Eccoci qua. Dolcetto della crescita. Ne compriamo ben due per 300 simonium. Direi che ce lo possiamo permettere alla grande. Possiamo tornare a casa a questo punto e far crescere i gattini. Perché sono cuccioli da troppo troppo tempo. Eccoci qui. Chi abbiamo di bello? Happy. Cominciamo da Happy. Vediamo un po'. È un dolcetto. Sì. Perché ne abbiamo quattro? Ah. Scherziamo. Perché ho quattro dolcetti invece di due? Non lo so. Due li rivendiamo quando andiamo nella nostra clinica a lavorare. Vi ricordo che lei è anche veterinaria. Intanto però facciamo crescere il gatto va? Happy è ora di crescere. Perfetto. Devi crescere. Ecco. Ora dai il dolcetto. Puoi cominciare a girare su se stesso. Credo. Un po' come fanno i cani. Quindi assistiamo insieme alla scena. Vediamo un po'. Eccolo qua che gira e dovrebbe crescere. In teoria. E ci mette più o meno dalle due alle tre ore. Per fare ciò. Però pian piano ce la dovrebbe fare. Invece scherzo. Sta per crescere. Vediamo un po'. Happy è passato d'età. Il gattino Happy è cresciuto. Diventando un gatto adulto. Ora è in grado di salire le scale. Nonché di saltare sopra e riposare sulle superfici piatte più alte. Può inoltre accoppiarsi con le gatte se non è stato castrato. Urrà per Happy. Happy Happy. Ah che bello. Perfetto. E uno è andato. Ed è praticamente la fotocopia. Ma in realtà no. Non è la fotocopia del padre. E' un mix fra il padre e la madre. Se anche assomiglia molto a Cap. Ecco. Ora è arrivato il momento di dare da mangiare all'altro gatto. Che come vedete è bello agitato e va in giro per la città. Quindi sperando torni presto. Dovremmo anche riuscire a farlo crescere. Perché è un pazzo scatenato il gatto. Dove sta andando? Dov'è il gatto? Ok. Sta tornando verso casa. E infatti eccolo qua. Salve. Ecco. Torna pure a casa. Che ti do il dolcetto. Perché devi crescere. Ecco qui che anche il nostro skip dovrebbe crescere molto molto in fretta. Così almeno abbiamo fatto anche questo. Che era molto molto importante da fare. E poi possiamo concentrarci. Come vi dicevo. Sulla manualità. Anche perché siamo davvero agli sgoccioli. E per fare ciò. Io ho acquistato. Intanto vai aspettiamo che skip cresca. Ho acquistato. Dicevo. I libri della manualità. La notifica è la stessa. Quindi la saltiamo. E anche lui è bello bello uguale ai genitori. Ora ce ne approfittiamo. E leggiamo il libro di manualità. Volume 3. Dovrebbe essere quello che ci manca. Per raggiungere il livello 10. Ora dovremmo raggiungere il livello 9. Molto molto velocemente. Come vedete sto anche mandando un po' avanti il tempo. Velocemente per cercare di massimizzarla. Siamo a livello 9. Molto bene. Ora ci vorrà un po' per raggiungere il livello 10. Però dalla nostra abbiamo anche il fatto che possiamo riparare. E fare tante belle robe. Ad esempio io qua. Ho aggiornato il frigo. Come vedete con lo sportello rinforzato. Ma ho fatto anche delle cose alla cucina eccetera eccetera. Insomma ho utilizzato la manualità per aggiornare un po' gli elettrodomestici. Intanto che cercavo di massimizzare la carriera. I gatti però come stanno? Cos'ha il gatto di bello? Ma fame. Che problema c'è? Dai il piatto a skip. Possiamo farlo? Proviamoci. Eh beh è bell'affamato. Guardate un po' come si lamenta. Possiamo farlo? Eh no. Va bene. Ma in realtà non ha problemi il gatto credo. Spero. Intanto andiamo a farci un bel bagno. E poi riempiamo le ciotole. Così almeno sono tutti tranquilli. Riempiamo tutte le ciotole per gli animali. Grazie. Lei ormai si veste solo da come dire da giardino. Non so perché. Ecco in teoria il gatto dovrebbe anche mangiare. E questo ci darà la possibilità di avere gli animali sempre più indipendenti. Perché da cuccioli ragazzi non è facile. Come vedete anche riempito il mangime della mangiatoria degli uccelli. Infatti arrivano a farci compagnia. Il giardino è un completo schifo. E davvero ragazzi io lo curo tantissimo. E raccolgo tutto molto molto spesso. Quindi in realtà è bello bello impegnativo il giardino da mantenere. Però pian piano lo facciamo. Anzi come vedete ne ho approfittato per dire alla nostra Chiara di mettersi un po' sotto con il lavoro. Visto che sta bene e cercare di curarlo. Ora fin tanto che Luca è a lavoro non so neanche a chi ora torna da lavoro. Alle 19. Beh in realtà sta tornando. Perfetto. E il suo rendimento è medio. Sto continuando a far leggere la nostra Chiara. Che però come vedete non prende più esperienza dai libri. Questo perché ha massimizzato la carriera a 2800 Simoleon. Perfetto. Quindi in realtà non so bene come aiutarla a massimizzarla. Semplicemente perché ora posso aggiornare le cose. Ci sto provando. Sto cercando di aggiornare un po' tutto. Però devo dire che siamo praticamente agli sgoccioli. Probabilmente l'aiuterei meglio con il tavolo per la manualità forse. Credo sia l'unico modo. Tanto lui è bello bello sporco. E va al pc invece di andare a farsi un bagno. Guarda un po' quanti bisogni ha eppure ha scelto di andare al pc. Quindi ragazzi io ci provo. Compriamo il tavolo per le abilità. Così almeno vediamo un attimo se riesce a massimizzarla. Dovrei trovarlo da queste parti se non ricordo male. Quindi se io vado un po' in basso. Eccolo qua. Tavolo da lavoro. 750 Simoleon. Dai li possiamo spendere. Lo mettiamo magari qui. E approfitto anche per vedere le nuove stanze. Intanto qua abbiamo anche delle robe. Ma voglio vedere la stanza del medico. Che è stata appunto sbloccata. Dovrebbe essere questo. Studio medico. 7.685 E qua abbiamo una stanza che è perfetta per il medico. E siamo tutti d'accordo. Se anche non ci serve. La potremmo aggiungere a casa. In questa casa. Sarebbe carina come cosa anche per vedere un po' di far funzionare l'abilità di medico. Ma credo sia solo decorativa ragazzi. Non credo serva. Anche perché penso sia una stanza bella grande. Infatti sospettavo bene. Quindi questa sarà difficile da includere nella casa. A meno che non la mettiamo. Ecco tipo da queste parti. Vediamo. Vediamo. Dobbiamo scegliere. Magari lo possiamo decidere insieme. Fatemi sapere nei commenti. Se vorreste aggiungere quella sala. Intanto per la nostra Chiara. Possiamo provare a costruire un mobile. Tavolo da pranzo. Direi di sì. Perché almeno poi li rivendiamo. Chi se ne importa. Possiamo anche partecipare ai mercatini dell'usato. Perché no. Possiamo andare lì e vendere le cose che produciamo. Sarebbe anche bello. Anche perché come vedete. Con livello 9. Possiamo produrre tantissime cose. Quindi in realtà. Appena lei smette di essere annoiata. Ecco. Per fortuna e torna soddisfatta. Dovrebbe anche riuscire a fare quello che deve. Tutto ciò. Il nostro Lucas è messo a. Innaffiare le piante. Io non capisco. Non è il suo compito. Però lo fa. Il che va bene. Ci aiuta con il nostro giardino. E siamo tutti contenti. Però. In realtà lui ha altri bisogni. Ora. C'è però qualcuno. Dei due gatti. Che non sta bene. Ed è lui. Credo. No. Vediamo l'altro. Perfetto. Si vede proprio che sono fratelli. Bevono qua dall'acqua dei fiori. Perché come vedete. Intanto il tavolo di faneniammerie è finito. Perché come vedete. Qua ci sono troppe palline di pelo. Quindi dobbiamo anche capire. Chi è dei due che sta male. Intanto è andato in bagno. Molto bene. Il tavolo. Vediamo un po'. Dovremmo averlo qua nell'inventario. No. Probabilmente nell'inventario di famiglia. Allora. E infatti eccolo qua. Tavolo da pranzo. Normale. Ambiente 4. Va bene. Valore. Lo possiamo anche vendere. Va bene. Non importa. Ora ce lo otteniamo. Facciamo magari qualcos'altro. Scultura. No. Facciamo un mobile. Facciamo decorazione da parete. Dai. Anche perché mi piacerebbe avere degli oggetti. Che abbiano l'aura emotiva. Sarebbe molto molto comodo. Per veicolare. Mettiamola così. Le emozioni dei nostri sim. Non sarebbe male come cosa. Però questo ci fa comunque salire la manualità. Quindi la cosa mi piace. Mi piace molto. Perché come vedete. La sta sviluppando. Se anche molto a rilento. Però utilizzare questo tavolo. Direi che ci farà massimizzare. A questo punto l'abilità. E possiamo poi sbloccare il lotto. Segreto. E andare a fare anche tante belle robe. Intanto anche quello è fatto. Facciamo ancora un mobile. Facciamo. specchio. Sede da pranzo. Sede da pranzo. Davvero molto molto male. Andiamo alla nostra clinica. però stavolta. Così almeno vediamo anche chi ci assiste. perché in teoria. Perché in teoria io sarei un dipendente. Siamo arrivati. Salve collega. Salve. Ora voglio prenotare. Un attimo. Registra. Happy per la malattia. Quindi era happy a stare male. Esame. Presto un veterinario. Dovrebbe arrivare. E dovrebbe essere lui. Quindi la cosa mi preoccupa. Avrei preferito fosse Erika. Probabilmente. Ho appena saputo di questo concerto. Io invece ho appena saputo che il mio gatto sta male. E vorrei che tu fossi qui. In realtà. Visto che la clinica è la tua. Caro la mia piglioletta. Comunque. Se il veterinario ci assiste. Anche perché sono arrivato per primo. Quindi non va bene. Non va bene. Ho perso il turno. Non lo so. Non lo so. Anche perché l'ho registrato. Quindi ora dipende da questo scansafatiche. Se il mio gatto sarà curato. In tutto ciò vedo anche Minerva. Eccola qua. Perfetto. Quindi c'è anche Erika che ha portato il gatto. Non ne ho idea. Ma cosa... Allora. Sì. Salve. Perché c'è il veterinario qua? Io ho prenotato la visita per il mio gatto. Eccolo qua. Oltretutto bello bello. Come dire. Strano. Con le stelline che vanno sulla testa. E lui sta fermo qua ad osservare la gran vastità del faro. Che me ne frega. Perfetto. Allora. Facciamo così. Grazie. Dire che possiamo andarcene via. A questo punto. Perché è sì. E dire che possiamo andare nell'altra clinica veterinaria. A farcelo curare il gatto. Perché a quanto pare questa clinica è piena di incompetenti. Io ci lavoro. Quindi. Che è tutto dire. E siamo di nuovo in una nuova clinica veterinaria. Abbiamo appena registrato Eppi per la visita. Perché lo devo curare per forza di cose. Ok. Arriva il veterinario. Vediamo un po' le differenze. Notiamo le differenze con l'altra clinica. Come vedete sta già. Ecco. Perfetto. Il veterinario è già arrivato. E sta già curando il nostro animale. Ecco le differenze. Ora assistiamo un po' alla cura del gatto. Come vedete. Sì. Infatti sta molto molto male. Terapia costosa. Assolutamente. Non vado a spese per gli animali. Quindi lo curiamo finalmente. E siamo talmente stanchi. Che non so bene come torneremo a casa. Ma per forza di cose lo dobbiamo fare. Quindi siamo tornati a casa con un gatto sano. Con tante vasche da bagno nel nostro inventario. Davvero tante. E con l'abilità di manualità che si sta davvero avvicinando al suo massimo livello. Eccolo qua. Ci manca davvero poco. Ora stavo anche notando che abbiamo addestramento degli animali a livello 1. Ma sono dettagli. E stiamo andando molto molto avanti. Ora lei sta andando a letto. Come è giusto che sia. Quindi lascerei anche andare. Perfetto. Erika continua a rompere le scatole. Molto bene al telefono. E nel prossimo episodio ragazzi. Cosa faremo con questi due ormai anzianotti? Non ancora ma nel prossimo episodio sarà così. Sarà così perché voglio massimizzare l'abilità. Voglio andare a fare il servizio fotografico alla grotta. E soprattutto farli passare d'età. E far diventare anziani Erika e Luca. Quindi si avvicina il loro momento. Quindi nel prossimo episodio in cui torneremo da loro. Probabilmente succederà questo. Al momento però ragazzi direi che ci possiamo fermare così. In questo episodio abbiamo fatto qualcosa di molto molto importante. Abbiamo infatti massimizzato la carriera medica con il nostro Luca. Stiamo guadagnando tantissimi simonion. Come è giusto che sia. E con la nostra Chiara stiamo continuando a fare tutte le nostre belle faccende. Ma direi che per questo episodio è tutto. Io spero che vi sia piaciuto. E se è così invita a mettere un mi piace. Iscrivetevi al canale e fammi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Trovate qui il pulsante per iscrivervi agli altri video. Io come sempre vi do l'appunto mentre la prossima e vi dico ciao a tutti. Ciao. 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 Grazie a tutti